E' così, non ha visto niente, non conosce niente, sarà fatalmente curiosa, sarebbe Gabriella che prima che gli offrissi un pazzetto di fiori. Dieci uomini su dieci ci potrebbero riuscire, io ho la mia reputazione da difendere, cara. Mi rendo conto che dovrò dirvi proprio tutto, ebbene, mia zia non è del tutto sola in questo momento, ha una giovane vita che le fa compagnia, è madame de l'Iturvei. Se lui è una donna che fa sapere che volevo dare il fervore calicioso e per il suo felicissimo matrimonio, che altro ci potrebbe essere di più prestigioso? Ok, questa è la sua paura.